E' una descrizione profonda e intensa quella che Papa Francesco fa dell'amore di Dio. Ricorda, partendo da San Paolo, che noi siamo legati a Lui e niente, nessuna potenza, nessuna cosa, può separarci dal suo amore. E' il dono, afferma, della rigenerazione in Cristo Gesù. Un legame che però al suo rovescio della medaglia, dell'impotenza di Dio a staccarsi da noi perché incapace di non amare, ma proprio questa diventa la nostra sicurezza. Nelle lacrime versate a Gerusalemme c'è la sua tenerezza di Padre, che protegge e cura anche chi ha rifiutato il suo amore. Il più cattivo, il più bestemmiatore e amato da Dio con una tenerezza di Padre, di Papà, e come dice Paolo con questi, come dice il Vangelo con Gesù, come una chioccia con i pulcini. E Dio, il potente, il creatore, può fare tutto. Dio piange. Dio piange per me quando io mi allontano. Dio piange per ognuno di noi. Dio piange per quelli malvagi che fanno tante cose brutte, tanto male all'umanità. aspetta, non condanna, piange. perché? Perché ama.